e la buongiorno a tutti bentornati in un nuovo episodio di minecraft precisamente il quinto episodio di minecraft qui sul nuovo electric studios allora andiamo subito a vedere ok eccoci qua di nuovo allora eccoci qua allora siamo arrivati sono arrivato quasi al limite della vita mi sono accorto intanto mangiamo anche un po' ecco qua allora possiamo dire che nel frattempo oggi proseguiremo con la proseguiremo con la casa di pedro intanto mettiamo giù tutto quello che non ci serve dovrò fare altre cross box perché se no solo una grossa ma non basta come si vede ovviamente no? allora come vedete ho praticamente solo legno ho fatto un sacco di legno ho fatto una marea di legno guardate che roba il secchio e abbiamo finito tutto siiii ok quindi andiamo procediamo non con la bistecca in mano ma con le assi di betulla casa di pedro l processed tutorial tutto 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 ok o era più perché avevo fatto uno scalino in più si beh da qua faremo scendere poi le cose le cascatelle abbiamo finito lo stock? beh ne abbiamo altre tanti quindi già ma magari se invece che farlo da qua lo faccio dal basso magari faccio anche prima perché tanto essendo basso come vedete ci arrivo senza problemi basta solo che mi sposto come un granchio allora questo lo tiriamo giù ecco qua la prima piattaforma prendiamo un blocchetto è pronta bellissima poi abbiamo solo 5 steccati ai 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 poi facciamo una due tre quattro cinque quella là è rimasta là dovrò andare a copparla ma dovrò copparla perché tanto l'allevamento me lo sono già fatto se non sbaglio avevo una crossbox che ho già messo giù cavoli mi tocca scendere dove era? dove era? dove era? dove era? ah era qua dentro ce la mettiamo lì che così almeno mi servirà una macchina per dovrò costruire una macchina per attraversare tutte queste pontili perché è infinito ci pensiamo alla crafty qua e ci craftiamo recinzioni perché non possiamo farci estaccionate perché ci servono i legnetti tanto che nemmo quindi ecco qua teoria 16 dovrebbero bastare quindi non voglio finire tutte le 21 per fare i 3 o 4 piani dovrebbero bastare in teoria allora quindi ci avanzano anche due legnetti per fare evidentemente delle torce buono allora oppla su poi siccome dovremmo pass... cioè dovremmo comunque starci cioè rifacciamo questi qua se non sbaglio rifacciamo di 3 si dai e comunque dovremmo lo stesso avere dopo tutto lo spazio per poter mi sa che supererà la casa mia dovrò alzare ulteriormente la casa mia con un'altra scala vabbè lo faremo tanto di legna non ce n'è ce n'è cioè guardate abbiamo un bosco evidentemente conto che qua era pieno di alberi ce l'ho disboscato tutto disboscato non è rimasto più niente ok 1 2 2 2 2 3 ne manca uno qua e ce lo mettiamo giù eccola qua poi perché comunque fa danno cadere da 3 3 o 4 scalini quindi c'è sì però io ripensandoci bene ci saranno subito le scale perché se no se vogliamo salire sopra come si può fare allora qua ci andrà una porta qua ci metteremo no qua c'è una porta un portone abbiamo fatto il portone là quindi tac tac lo facciamo però in questo colore qua poi ci metteremo qua sopra ci metteremo delle vetrate si poi nel frattempo potremo farci già la porta quindi ok ce ne abbiamo 3 che non so anch'io che ce ne facciamo di 3 porte noi ce ne bastano 2 infatti prendo quella da 2 no quella da 1 dopo andiamo a dare le vacchette quando aggiorno ok quindi le porte ricordate di metterle sempre dall'esterno se no i mob possono entrare in casa ok abbiamo le nostre porte andiamo a vedere se è finito questo vetro si giusto giusto tra vedete era tutto calcolato pronto per fare oddì l'erba sta arrivando qua sopra sta arrivando qua sopra si si ce l'abbiamo fatta ah finalmente raga abbiamo anche l'erba quindi adesso giriamo chiudiamo e mettiamo giù i blocchi 1 2 3 no ce ne manca uno no perché perché mi fai questo allora una cosa potremmo fare per evitare comunque o potremmo chiudere facendo comunque delle finestre si dai voglio sempre tasto chiudiamo e così non finiamo di sotto retro ok che così dopo lì possiamo fare anche degli scalini no e qua ci facciamo per adesso ci mettiamo una recensione poi faremo il balcone la casa deve avere il balcone infatti io nella mia farò perché una sola c'è qualcosa che non quadra beh vabbè fa stesso noi faremo tanto adesso le betulle ne abbiamo se riusciamo a finire su questa casa qua se non vi preoccupate facciamo dopo il balcone però adesso mi voglio preparare per fare delle scale le voglio fare qua assi di quercia abbiamo finito il nostro 32 giù ok allora allora le scale dobbiamo farle salire da qui vediamo come se tipo noi facessimo salire l'ingresso di volopopan di volopopan e qua subito dietro le scale si sarebbe forte allora uno due tre le nostre amiche scale ce le facciamo qua sotto quindi vedete che è utile farsi la box allora le scale le facciamo in questo legno uno quattro quattro due quattro otto ok che così le scale facciamo diverse poi nel piano di sopra invece faremo le scale in un altro colore quindi facciamo così scarino e mettiamo giù mettiamo e mettiamo giù scarino poi qui apriamo ecco uno e un due se no soffochiamo perché bisogna quando aprite no di tre ci serve vabbè qua c'è un'altra si riusciamo no no raga dobbiamo allargare mi andrò mi andrò a male su attenta che ne tiro giù due per adesso allora e poi comunque una scaletta che curva è anche carina da vedere quindi allora piazziamo questi qua qua ne piazzi uno ok buono due tre ragazzi ragazzi adesso ci rimarremo secchi ne sono certo perché con questo siamo anche al limite cioè non so se vedete ma lì siamo al limite quindi si piombò giù ci rimaniamo secchi giuste 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 no ne manca una beh comunque per adesso facciamo facciamo così andiamo a pezzarcene uno qua sopra ok adesso con calma che triamo pianino ok dove sono sulla cima sulla cima del cucuzzo della montagna con quel mazzolin di fiori che arriva nella montagna e anche la prima parte della base è finita non ci posso credere non ci credo fortissimo magnifico la c'è la c'è abbiamo anche dei cavalli nel fondo quindi questo episodio è finito qua saluto tutti ricordate di iscrivervi di lasciare dei like che sono molto ben graditi e potete mettere anche delle iscrizioni in più magari che così potete vincere il concorso l'evento che è attivo adesso dei 100 iscritti vi saluto arrivederci ciao